La recente sospensione del servizio del trasporto pubblico urbano tramite mezzi dell'AMT di Catania fa ancora discutere i cittadini di Gravina, ma oltre ai gravi disagi logistici nelle vie della cittadina Ettennea si discute soprattutto sulle motivazioni che hanno portato il sindaco di Gravina, Domenico Rapisarda, a non far proseguire il servizio all'azienda di trasporto di Catania. Alle accuse di chi sostiene che il rapporto non sia stato portato avanti perché mancava la copertura finanziaria, il primo cittadino di Gravina questa mattina ai nostri microfoni parla di una vera e propria impossibilità da parte degli uffici e dei funzionari comunali di rinnovare il contratto a causa della non regolare posizione contributiva dell'AMT. In questo momento siamo in sospensione di servizio perché l'AMT ci ha mandato il giorno 13-13 di febbraio un invito a firmare il contratto tra il comune e l'AMT. però in mancanza di un documento importante che deve essere in possesso dell'AMT sarebbe il documento unico di regolarità contributiva il funzionario addetto appunto alla stipula del contratto non può apporre la firma su questa convenzione e quindi ci troviamo nella impossibilità di poter continuare questo servizio. L'amministrazione gravinese sta già pensando ad un piano B con un servizio sostitutivo secondo quanto spiegato dal sindaco Rapisarda il servizio con l'AMT costava circa 264 mila euro l'anno mentre in questo momento per sopperire disagi, sempre secondo le notizie avute dal sindaco l'amministrazione sta preparando le carte per un affido diretto di circa 20 mila euro per coprire il tempo necessario per affidare il servizio tramite gara per una somma complessiva che oggi il sindaco Rapisarda stima intorno ai 100 mila euro annui. In quanto sin dai primi giorni di marzo avremo la possibilità di sfruttare un collegamento navetta interno che ci possa permettere di fare appunto da collegamento tra le varie frazioni di Gravina, Gravina Centro e portarli quanto più vicino possibile, io penso, a un punto di raccolta dove passa il BRT. Questo sta rappresentando un costo aggiuntivo? Questo non sta rappresentando un costo aggiuntivo. Speriamo addirittura di poter ricavare qualche economia da questo servizio.